Buongiorno, saluti, bentrovati, la professoressa Carmela Giaccarina, merita forse, invenzione. Professoressa, ci volete raccontare oggi che cosa dobbiamo fare? È una rappresentazione... Con centinaia di ragazzi che la sala è piena... Questo è il liceo, è una rappresentazione del Salvemini, personaggio importante... A parlarne chi saranno? A alcuni colleghi del Salvemini, del liceo Salvemini e poi altri relatori. Carmela, ci vuoi dire qualche cosa? Di quei tanti tanti anni sei senza voce? Benissimo, grazie e buon proseguimento. Buongiorno, saluti, bentrovati, siamo qui all'ingresso della sala, importantissima, capace, contenente, comoda per questi ragazzi. Per due giorni organizzata dall'archeoclepo di Massa Lumbrenze, con la collaborazione... Con l'anima di quest'iniziativa... Felice senatore, a cui ci rendiamo omaggio e lo aspettiamo eventualmente per dire qualcosa... Per arrivare al momento di scuola... Quindi ci aspettiamo domani... Ma intanto oggi di che cosa si parla? Oggi è un'iniziativa per il terreno scolastico... Si è indirizzata agli studenti... Ma sempre rimane il personaggio principale, oggetto della discussione, rimane Caetano Salvemini. Perfetto, i nostri auguri e i nostri complimenti a questo Accio Club che vola sempre più in alto... Grazie, grazie alla promozione che ti hanno appositato io... Si, come dire... Si pubblicizza in tutte le situazioni... Grazie... Vi auguri... Cosa bella...